La squadra di Marcella Severino è pronta. Ieri la neoeletta prima cittadina di Stresa ha firmato le deleghe per gli assessori. Alessandro Bertolino è vice sindaco, si occuperà di polizia locale, frazioni, ambiente, tempo libero, sport e politiche giovanili. A Maria Gazzia Bolongaro gli incarichi di turismo, cultura, attività produttive, commercio e pubblica istruzione. Carla Gasparro ha le deleghe a bilancio, fiscalità, locale, società partecipate, politiche sociali e della famiglia. Chiamato in campo come assessore esterno l'ex sindaco Giorgio Diverio, che seguirà urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici. Nei prossimi giorni, spiega Severino, distribuirò le deleghe ai consiglieri. Intanto è già stato convocato il primo consiglio comunale. L'appuntamento è per giovedì 1 ottobre alle 21 nel foie del Palazzo dei Congressi. All'ordine del giorno la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco, la comunicazione delle nomine della giunta e altri addentimenti previsti. Si può partecipare al consiglio come pubblico indossando la mascherina e mantenendo le distanze. Grazie. Grazie. Grazie.